ok ci siamo ci può fare va alla grande ok mi mancavano 20 metri porca miseria vabbè e che c'è qua e e e e ops f**k f**k non 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 fare non vuole il primo è che si è ancora qui non vuole non è così io mi ho detto che sia ancora qui non non più tortellini non vuole tortellini non più non più pasta e fasoli non vuole tortellini è ok i i i i i i i i i ah ah and go back the problem is the gear doesn't work yes it's not working i 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 if there is not a road we're gonna make one ha 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 easy easy guard easy ah ah fuck it ci siamo ce la facciamo fare good that we don't leave it too far away cazzarola i i i i i i meno male siamo arrivati e allora questo è il nuovo pezzo che è arrivato questo è quello nuovo che però non va bene perché ha un gioco incredibile all'interno e quello lì è l'originale chiaro chiaro vedo vedo la differenza e si 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 è ok è ok dopodichè siamo ritornati e questo è il momento nel quale siamo ritornati sostituendo appunto uno dei due mozzi quello appunto a sinistra e in effetti c'era un cambiamento tuttavia il momento in cui il motore si trovava sotto sforzo quindi è molto probabile che siano i due ingranaggi e l'altro giorno mentre facevamo l'off road siccome era concentrato a guardare di dietro me si è piantato contro un troncone non è che si è piantato però mentre spinge e quindi vanno vanno bene in un certo senso vanno bene lo stesso quello che c'è è che se fai delle strade lunghe rimangono sempre inseriti e quindi magari c'è il consul Grazie a tutti